salve a tutti amici voglio denunciare un avvenimento che sta succedendo da circa 10 ore sono sottoposto a lavaggi del cervello e interrogatori continui da parte di dubbi operativi speciali dei servizi segreti esterni militari che ovviamente mi dicono che sono indagato in numerose indagini di mafia droga e terrorismo il quale io sono totalmente estraneo ma so perfettamente che questa è una copertura delle sperimentazioni e collaudi di armi ad energie dirette e satelli di spia e altre tecnologie con elettroencefalografo trascranico e telegamera scansione sintetica olografica che vengono utilizzate sulle cavi umano le vittime del controllo neurale e per tenere questi satelli di spia addosso a queste persone si inventano false indagini antimafia false indagini antiterrorismo e false indagini antidroga perché questo è il pretesto per poter coprire e occultare i reparti che sperimentano e collaudano i salari di spia su cavi umane voglio ricordare che in italia ci sono 20 milioni di manciuriani tossicodipendenti collegati all'unità centrale di elaborazione dati con cambio di frequenze deduzionali e fisiologiche che creano dipendenza simulata nel loro corpo e nel loro cervello allora cito l'ultima denuncia che è stata portata da me il 9 ottobre del 2015 alla procura della repubblica dopo un fermo anomalo dei carabinieri di roma avvenuto il 10 febbraio del 2001 dopo circa due giorni dall'accaduto sono stato collegato alle altre tecnologie satellitari in collegamento transcranico gps che vede la mia localizzazione gps in tempo reale e vede le mie frequenze neurali e fisiologiche attraverso monitor emoti situati dentro centrali operative speciali oppure centrali operative segrete e sulle auto dei reparti speciali radiomobili quando sono in operativo il mio corpo attraverso un radar a scansione sintetica satellitare in telecamera olografica 3d con sistema di spionaggio militare segreto ovviamente sono telecamere a fotoni o radar a scansione sintetica con arma d'onda convogliata che vedono attraverso le particelle di luce ed effettuano attraverso radiofrequenze scansioni come la tac la risonanza magnetica e il body scanner stanno attestando sul mio corpo e sul mio cervello una tecnologia militare segreta che crea ipnosi narcolessia con gravi ristabilizzazioni delle frequenze fisiologiche creando dipendenza simulata per far perdere la mia credibilità con anomali gravi patologie simulate e con lavaggi del cervello continui in telepatia sintetica o in telepatia artificiale e con tecnologia gps satellitare in elettroencefalografo trascranico le telecamere georata sintetiche satellitari lavorano con cinque sistemi di scansione sintetica perché loro stanno collaudando le frequenze e le patologie che vengono sparate sul corpo delle persone che vengono sottoposte a lavaggi del cervello dotture narcolessia e ipnosi per creare famigerato manchurian candida allora la prima tecnologia la prima telecamera che viene citata sistema ad risonanza magnetica satellitare con localizzatore gps la seconda sistema ad particelle di luce fotoni oppure laser con visione a contrasto vedono un negativo del mio corpo e del mio appartamento dal satellite spia la terza telecamera al terzo sistema che viene collaudato su di me sulle cave e le vittime del controllo neurale visione sintetica con frequenze millimetriche come il body scanner infatti è uno scanner satellitare che ricrea l'immagine olografica o la biometria olografica del mio corpo per poter poi individuare e puntare il mio corpo per potermi attaccare con le armi di energia diretta attraverso la mappatura cerebrale che loro ci effettuano nei primi due anni di collegamento satellitare una volta prese le nostre frequenze fisiologiche cerebrali e neurali possono manipolare o equilizzare queste frequenze per manipolare il nostro cervello la quarta uno scanner a microonde con visione olografica del di a focalizzazione simultanea e tutto questo per vedere il mio corpo attraverso i muri di casa con sistemi di localizzazione gps militari segreti in tempo reale e un elettro cefalo per uno scanico satellitare per mappare le mie frequenze neurali sono pedinamenti oppure spionaggio militare a tracciatura e visione sintetica con microfoni satellitari ambientali laser ad onda convogliata che vede e sente il mio corpo fino a 100 metri sotto terra oppure esperimenti su cavie umane la quinta tecnologia che stanno collaudando su di me voglio ricordare che queste sono tecnologie che vengono sperimentate per le agenzie di intelligence deviate per l'agenzia dei servizi segreti deviate perché ovviamente gli esperimenti vengono fatti su cavie umane su migliaia di persone del territorio nazionale italiano che vengono sottoposti e lavaggi del cervello torture manipolazioni con attacchi con arma di energia diretta a lungo termine perché a lungo termine devono attestare gli effetti collaterali delle frequenze che vengono sparate sul corpo delle persone per vedere se gli prendono lucemie tumori infarti e schemi cerebrali trombosi e tanto altro se impazziscono queste persone con determinate frequenze per far sì che poi possano vendere questi questi parametri satellitari ai migliori offerenti la quinta tecnologia telecamera a contrasto termico così possono manipolare le temperature del mio corpo e dell'ambiente circostante con microonde per creare perdita della concentrazione non so se vi siete accorti che ultimamente quando siamo dentro casa ma io dico migliaia di persone attraverso le mie ricerche le varie testimonianze che io ho preso in giro che le persone dentro casa muoiono di freddo e quando stanno all'esterno scoppiano dal caldo anche l'inverno secondo voi se si scoppia dal freddo dentro casa la gente che cosa fa accende i termosifoni quindi c'è un dispendio di denaro e accende i condizionatori e c'è un dispendio della corrente elettrica dopo circa 5470 giorni che adesso sono diventati 5.600 giorni credo che sia un esperimento militare segreto per il controllo e il collaudo di altre ecologie satellitari attraverso agenzie segrete sovraistituzionali che spiano anche le forze dell'ordine la magistratura per manipolare le indagini per occultare e coprire dei reati molto gravi contro lo stato italiano contro le forze dell'ordine oneste e contro la magistratura incorrottibile e che coprano con questi sistemi molti criminali affiliati al sistema corrotto e deviato per favorire appalti per la compravendita e collaudo di tecnologie satellitari oppure tecnologie con arma di energia diretta tonda convogliata ossa dell'ispia ho specificato anche un'altra cosa sulla denuncia leggo la mia prima denuncia che feci due mesi dopo il fermo dei carabinieri del 2001 ovviamente la prima denuncia parla che io vi cito anche la prima denuncia perché è una cosa molto importante procura della repubblica verso il tribunale di roma percepisce ed è particolarmente questa l'ho fatta il 27 marzo del 2001 percepisce ed è particolarmente sensibile alle radiazioni elettromagnetiche tanto da poterle individuare la presenza ogni qual volta sono presenti e proprietario di due telefoni cellulari ho messo ovviamente i numeri del telefono e sono rimasti sempre stessi sono circa due mesi che sente delle radiazioni elettromagnetiche particolari sui due cellulari sopra descritti anche quando gli stessi risultano essere spenti sono in oltre due mesi che subisce a causa di tali radiazioni disturbi neurovegetativi ed emigranie di insonnia fortissima ovviamente era attaccato con le armi di energia diretta ad onde convogliate frequenze a manipolazione diretta con la perdita del sonno e destabilizzazione delle frequenze fisiologiche perché simulavano sul mio corpo attraverso una mappatura celebrale presa sui tossicodipendenti veri mi rimettevano la loro stessa mappatura celebrale all'interno del cervello per simulare la mia dipendenza all'eroina ma che era praticamente impossibile che io potevo essere un re nomale un coche nomale e poi dovete citare una cosa su tutte le denunce che voi fate con riservo di costituirsi parte civile dell'estaurando procedimento penale fa altresì istanza ai sensi dell'articolo 408 codici di procedura penale di essere avvisato in caso di archiviazione della presente e chiede che detto procedimento non venga definito con decreto penale di condanna per quale motivo perché nel 2001 credevo che erano delle semplici intercettazioni telefoniche non che era un esperimento militare per il controllo del collaudo dei satelli di spia che sono 17 anni che ancora continua se volete testimoniare sulla mia radio web e sui miei canali di youtube vi lascio adesso le descrizioni la mia radio web con molte testimonianze di vittime del controllo neurale emiliano babilonia spriger poi ci sono i miei canali di youtube angeli custodia mk oltre italia youtube ovviamente emiliano babilonia youtube emiliano babilonia youtube praticamente ci sono tutte le dirette le testimonianze che sono state effettuate in questi anni e prese dalla radio web perché molte interviste che io avevo messo sulla radio web sono state tolte e sono state passate direttamente sul canale di youtube emiliano babilonia youtube voglio ricordare i miei siti e i miei blog uno ricercatore di fenomeni spiegabili nel mondo il secondo satelliti spia e l'altro creato appositamente per le vittime del controllo neurale che vengono sottoposte lavaggi del cervello e tortura manipolazione diretta con armi ad energie diretta ad onde convogliate satelliti spia tecnologie militari voglio ricordare che vi leggono la mente in tempo reale che vedono dentro casa attraverso i satelliti quello che voi fate ovviamente vedono un una sagoma un ologramma vedono come il body scanner quindi vedendo hanno un mirino laser che punta il vostro corpo e da lì vi attaccano con queste tecnologie ovviamente vogliono far perdere la credibilità delle vostre sofferenze delle vostre manipolazioni delle vostre torture che voi subite da anni perché così voi andrete a denunciare a sento le voci mi attaccano con questi sistemi ho patologia anomale questo serve per far perdere la credibilità alla vittima o alla cavia umana che viene sottoposta a questi sistemi voglio ricordare anche la mia email vittime del controllo neurale chioccio da gmail.com voglio ricordare le email mandatemelo in continuazione perché i servizi segreti esterni militari bloccano le email delle vittime del controllo neurale che mi contattano ci sono sto sto aprendo dei gruppi su facebook dei gruppi su twitter e dei gruppi su molteplici altri canali ovviamente la maggior parte di questi gruppi vengono bloccati e manipolati o addirittura non mi fanno arrivare le richieste d'aiuto delle vittime del controllo neurale e non mi fanno arrivare le email di queste persone perché proprio bloccano tutte le indirizzazioni ai miei canali pensate che sono stato contattato da varie persone in tutto il mondo perché ovviamente vogliono collaborare con me con le mie ricerche perché sto cercando di progettare una casa anti radiazioni e una casa che possa schermare gli attacchi con le armi di energia diretta durante la notte e voglio ricordare che queste persone che operano dietro questi esperimenti prendono 8 mila euro di stipendio da ufficiali medici militari e dalle 10 mila alle 50 mila euro in nero tutti i mesi in nero fuori busta perché quelle sono date per sperimentare collaudare le tecnologie sulle cave umane le cave umane da quello che noi abbiamo capito sono cave umane terminali cioè i servizi segreti alla fine dell'esperimentazione dei collaudi eliminano la cave umana perché la cave umana è un testimone diretto dell'esperimentazione dei collaudi che hanno fatto su di lui un saluto a tutti amici di emiliano babilonia per i carabinieri poliziotti e finanzieri che siete stati sottoposti a torture lavaggi del cervello manipolazioni cerebrali contattatemi e faremo una diretta o una registrazione anche tramite skype e la pubblicheremo su tutti i miei canali perché dobbiamo far capire alle persone che ascoltano la mia radio web alle persone che ascoltano i miei canali di youtube che noi siamo definiti angeli custodi e che aiutiamo e salviamo le persone in difese grazie grazie